Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione Livorno, per lavori di miglioramento della sicurezza, c'è un chilometro di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Sempre per lavori in direzione Firenze, un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Si ricorda che i percorsi alternativi sono sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada A11. In A1, tre chilometri di coda per un veicolo in avaria al chilometro 259, tra Albivio con la variante di Valico e Aglio, in direzione Bologna. In A11, rallentamenti per perdita di carico tra Prato Est e l'allacciamento con l'A1 in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!